Non battezzato, non figlio di Stato, non riconosciuto, non è catalogato Ti accorgerai in ogni caso che ti hanno fregato Prima lezione dall'autogoverno all'autorità Seconda lezione è proibito lasciare di notte la comunità Niente estetica senza etica, niente etica senza estetica Niente metadone senza prima comunione Grazie a Dio un disturbo bipolare che mi tiene su il morale L'obiettivo è distruggermi, non conservarmi per chi capisce d'anatomia Ero il bambino più carino finché è arrivata la CIA Terza lezione dall'asilo nido all'università Filosofo di redazione per la catechesi e la pubblicità Niente estetica senza etica, niente etica senza estetica Niente metadone senza prima comunione Niente metadone senza prima comunione Niente metadone senza prima comunione Grazie a Dio un disturbo bipolare Una dieta equilibrata, un'attività fisica regolare Per agosto arriva il lago, capodanno in tribunale La mia scheda elettorale anche quest'anno è da bruciare Nell'unquazzo siderale i meteoriti ci continuano a evitare Ma non li si può fermare, ma non li si può fermare Quindi stiamo ad aspettare Grazie a Dio un'attività